Qui vediamo lo stesso esperimento visto nell'animazione poco fa. In questo disegno l'assa si espande verso destra spingendo su questo strumento che si chiama comparatore e che indica l'allungamento della sbarra. Questa è la formula che abbiamo appena visto, cioè questa, l'aumento di lunghezza è uguale alla lunghezza a 0 gradi centigradi per lambda per l'aumento di temperatura in gradi centigradi. Eccola infatti l'aumento di lunghezza L-L iniziale uguale alla lunghezza iniziale che di solito si chiama anche L0 cioè la lunghezza a 0 gradi centigradi per il coefficiente di dilatazione termica lineare lambda per l'aumento di temperatura. Naturalmente questa formula vale anche per diminuzioni di temperatura. In questo caso ΔT è un valore negativo perché la temperatura diminuisce e anche la variazione di lunghezza è negativa perché l'asta si ritira anziché allungarsi. Lo vediamo anche da qui. T'C diventa minore di Tc perché la temperatura è diminuita e anche L' diventa minore di L cioè l'asta si ritira. Quindi queste quantità, queste variazioni ΔL e ΔTc sono entrambe negative. Comunque di solito l'esperimento si fa in riscaldamento e quindi sono quantità positive. In questo disegno vediamo la lunghezza a 0 gradi centigradi Li o L0 la lunghezza finale e ΔL che è l'aumento di lunghezza corrispondente all'aumento di temperatura. Questa è la temperatura all'inizio 0 gradi centigradi e questa è la temperatura alla fine del riscaldamento con variazione ΔT. Adesso vediamo come si calcola il coefficiente λ o meglio come si misura direttamente con l'esperimento.